ebbene allora partita registrazione ebbene amici fratelli della congrega il mio segnale è scatenato lì fermo ma diciamo che la giornata oggi è partita proprio male sono dovuto andare in banca voi non sapete usare neanche il banco ma vi considerate dei banchieri ma andate al banco ho ordinato un'altra birra che fra l'altro poi mi sono fermato in due tre bar a prendere qualche caffè a un certo punto la signora con un cane un cane ben dosato tosato allora qui la recitazione va ben dosato ma stava a disturbare ho detto signora vada le cange e viva la volgarità prende questo cane e se lo ficchi nel cugo beh che modi sono i miei modi e voi ve ne dovete a tenere chiaro io sono un uomo disonorato diseredato sfigato bistrattato strambalato squinternato sono un valotico esagerato bellissimo masterpiece ora iniziamo le prove di doppiaggio dopo le 12 fatiche di asterix no questa rielaborazione ecco proposi roma renego scinni albert uderso no tratte dal famoso mito di ercole uomini erculei uomini che avete avuto poco culo nella vita ecco dopo le 50 fighe di 50 in una notte ci deve che ci deve va bene ma io non ho mai capito questa questa storia diciamo no doveva scopare 50 donne ma doveva arrivare con tutte 50 bastava una due tre e beh io sono buoni tutti l'importante è arrivare in fondo è chiaro ora con la mia gola profonda reciterò profondamente ovviamente il mio nome il mio nome mi chiamo massimo decimo meridio no 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 non va bene ci vuole più enfasi uomini sovrecitate per questo nuovo film di ridere scotto mamma butto la pasta il riso è scotto riso scotti pubblicizzato anche da gerry scotti ma io mi sono scottato no scocciato in questo ridere scotto sarà buono questo gladiator 2 e la pasta è buona vi ricordate cato alle nubi checco zalone com'è la pasta è cotta è cotta non disse buona ma questa conne nielsen fu buona eh sì quella dell'avvocato del diavolo e chi doppiò chiano rils nell'avvocato del diavolo lo stesso doppiatore di russell crow forse sì forse no lo stesso di brandon lee del corvo mi chiamo massimo decimo meridio comandante dell'esercito di niente questa è la prima prova poi ce ne saranno altri uomini provati da questa vita generale delle legioni felix veramente che è felix il gatto servo leale dell'unico vero imperatore marco aurelio padre di un figlio assassinato marito di una moglie uccisa gli avrò la mia vendetta in questa vita nell'altra va bene così questa la salviamo poi andiamo avanti con altre prove la vita ci prova la vita vuole comprovare noi di essere uomini provati voi sarete provinati non supererete nessun provino uomini voi siete gli sfigati non sarete nessuna donna come conne nisse spompidata beh allora questa è una scaduta caduta nella volgarità falò ci sta io sono il falò delle vanità deve rompere i coglioni chiaro allora basta con le sollecitazioni con le eccitazioni no qui ci vogliono delle eccitazioni i dialoghi più famosi o i monologhi di gladietro il primo il capostipite unico inimitabile originale insomma un figlio retorico fa schifo al cazzo allora forza e onore ora cambieremo le intonazioni a tre settimane da oggi io mi metterò il mio raccolto immaginate dove vorrete essere immaginate dove vorrete mi hanno riportato bene qua ma mi sto affidando a un sito perché così sarà serrati ranghi seguitemi ma questo è un contadino allora se vi ritroverete soli a cavalcare su verdi fratelli e col sole sulla faccia non preoccupatevi troppo perché sarete nei campi lisi e sarete già morti ma io vedo tanta gente che passa le vacanze lì come rasse cro a parigi e fa le camminate con tanti soldi champ elisée allora champagne l'allenatore della francia ancora dei champ non c'è più ieri ha vinto la francia contro il belgio che poi in belgio insomma in belga parlano francese allora basta con il francesismo salutato ma sorda che era una puttora da manta fratelli ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità sì però uno è morto allora al mio segnale scatenate l'inferno rom ha vinto no vinse con lo scudetto con lo spogliarello di sabrina ferilli non solo in virtù delle prodezze diciamo balistiche di francesco totti quindi è da parecchio che la roma non vince niente un soldato al grande vantaggio di poter e qui ci siamo impappinati ma ci sta teniamo così un soldato allora un soldato uomini assoldati al sistema uomini smembrati uomini sverginati uomini inchiappettati ribellati un soldato ha il grande vantaggio di poter guardare il suo nemico negli occhi e non male però eh conoscevo un uomo che diceva la morte sorrida a tutti un uomo non può far altro è venuto già una puttanata sono impappinato un'altra volta che lì poi carlo verdone sergio leone che c'entra 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 tutto conoscevo un uomo allora qui ci vuole l'accento romanesco un po' da ferruccio a mentola che do più anche dopo a smiglia delle armonneze no ma questo non è da Roma come non è da Roma eh a voi oppure il toscanaccio ah 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 ieri qua bella padronzolona conoscevo un uomo che diceva oh la morte sorride a tutti un uomo non può far altro che sorridere di mano oh mi chiamo Massimo Decimo Meritio questo è un uomo che si sta lasciando andare soffre di lascivia ecco di gnavia di gnavia è un uomo che oramai se ne è forte sta lì a bere l'amaro al bar e oramai la vita è amare e non va neanche più al mare a vedere tutte le donne che mostro le chiappe chiare ah il falove in chiappetto è chiaro mi chiamo Massimo Decimo Meritio no qua ci vuole uno della Basilicata comandante dell'esercito del nord generale della legione Felix servo leale dell'unico vero emberatore marca Aurelio non servo un uomo proprio malandato padre di un figlio assassinato hai capito Stefano marito di una moglie ho ucciso però la mia vendetta passa la mia vendetta in questa o nell'altra figa in questa vita o nell'altra qui ci vuole l'uomo il bauscia milanese il tempo degli onori preso sarà finito per te principe e io sono il cavaliere mascherato dopo essere ascenso dei campi lisi sono qui nuovamente riprecipitato in questo mondo una discesa nell'inferno al mio segnale schetenate l'inferno fate spogliare tutte queste belle veline queste fighelle perché qui villarcore è di tutto cuore il cavaliere il premier in pectore ci dà con ardore qualunque cosa esca da cocagelli avrà maggior possibilità di sopravvivere se combatteremo un capito se saremo unit sopravviveremo capito molte cose cambiano nel tempo e nel tempio molte cose ma non tutte roma vale la vita di un uomo giusto non lo credevamo una volta fa in modo che possiamo crederlo ancora che frase retorica era un soldato di roma onoratelo e se fosse stato un soldato di milano ma stiamo scherzando veramente massacrerei il mondo intero se solo tu mi amassi ma siamo sicuri è un sogno un sogno spaventoso la vita a chi lo dite io sono prossimo alla morte no io sono prossimo e per i pochi giorni che seguiranno gli ultimi della nostra miserabile vita io vi starò più vicino di quella puttana che vi ha messo al mondo urlando non ho pagato per godere della vostra compagnia ho pagato per trovare profitto dalla vostra morte e come vostra madre era con voi al principio io sarò con voi no è già venuta una puttanata no allora scusate ci sono le virgole qua non l'hanno messa io sono prossimo e per i pochi giorni che seguiranno gli ultimi della nostra della vostra allora pensate quando ascoltate i doppiaggi perfetti si è andato tutto bene a proposito della bocca del diavolo ascoltato il doppia riascoltato il doppiaggio di giannini sbaglia pure lui si si dice emozione al posto di emozione a un certo punto doveva dire emozioni emozione che cazzo stati a giaccarlo oh che anche tuo figlio dai ha fatto un doppiaggio di merda a tomardi il re venerdà dai io sono prossimo e per i pochi giorni che seguiranno gli ultimi della vostra miserabile vita io vi starò più vicino di quella puttana che vi ha messo al mondo urlando non ho pagato per godere della vostra compagnia l'ho pagato per fare profitto ma andiamo a mangiare un profiterol bisogna approfittarne finché si può poi non si può più poi ti diseredano ti deportano ti umiliano ti saccheggiano ti violentano pure che schifo io sono prossimo e per i pochi giorni che seguiranno gli ultimi della vostra miserabile vita io vi starò più vicino di quella puttana che vi ha messo al mondo urlando non ho pagato per godere della vostra compagnia ho pagato per trarre profitto dalla vostra morte e come vostra madre era con voi al principio io sarò con voi alla fine e quando morirete perché voi morirete il vostro trapasso avverrà con questo suono gladiatori io vi saluto e salutato magari la puttana di sorte demand in fin dei coiti in fin dei conti dobbiamo tutti morire purtroppo non possiamo scegliere in che modo ma possiamo decidere come andare incontro alla fine per poter essere ricordati da uomini ma più grande la morte allora mortacci tua allora mortacci tua ma questa c'è sta a pigliare per culo oh bello a bella da mamma eh allora salvata l'eccitazione la registrazione registrazione non registrazioni emozioni emozioni nei mortali non siamo che ombre polvere ombre polvere massimo massimo sangue 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 ispanico 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 quante volte lo dici basta abbiamo capito morte 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 che cosa fanno questi ripeto le cose come fanno i ritardati handicappeti allora è un grande nome dovranno uccidere il tuo nome prima di uccidere te ma io ti incontrerò un giorno ma non ancora non ancora non è giunto il momento di farci una bella eh c'è stato un sogno una volta che la roma ma capirai lì c'è un traffico non si poteva soltanto sussurrare ogni cosa più forte di un sospiro l'avrebbe fatto svanire era così fragile io temo che non sopravviverà all'interno all'inverno credo che lui sappia che cosa è roma e questo falotico credo che sappia molto bene cosa è la vita questo quando si ingazza fa un gulo è roma il popolo farà qualche magia per loro per distrarli toglierà loro la libertà e la folla a ruggire lo stesso il cuore pulsante di roma non è certo il marmo del senato ma la sabbia del colosseo lui porterà loro la morte in cambio lo americano bravo bravo qui sei stato bravo bravo comodo credi veramente di avere una vita comoda eh e basta coi comodini con gli uomini che stanno in queste zone comfort sono uomini confortevoli uomini agiati evviva gli uomini disagevoli disagiati oh commodo credi che stia morendo davvero lucile sta morendo da dieci anni se non stesse morendo non ci avrebbe mandato a chiamare ma diciamo che non ci avrebbe mandato a fangolo allora lucile lucile agosti quella lì sta sempre scosciata l'hanno presa anche in radio adesso per forza so io forse gli forse gli manchiamo e basta e i senatori non le avrebbe convocate se non fosse stato per berlusconi no che c'è ma per favore comodo dopo due settimane di viaggio le due dopo due settimane di viaggio le tue confetture no che c'è della barbara le tue congetture mi fanno male alla testa comodo non ha preso la sua decisione sta per annunciare la cara donna annunziato nominerà me la prima cosa che voglio fare una volta che sarà disonorato no una volta che puntini puntini sarà di onorarlo con giochi degni della sua grandezza per adesso la prima cosa che io voglio fare un bagno caldo perché questa questa lucilla qua vuol fare il bagno caldo tutta bagnata lì tutta riscaldata ma basta costi fi retorici dovete riguardare l'armata delle tenebre e riguardatevi curatevi altrimenti sarete dal falo inculati allora mi chiamo esch è solo uno schermo se non sbaglio dovrebbe essere l'anno domini 1300 e mi hanno condannato a morte ma non è stato sempre così un tempo anch'io avuto una vita vera un lavoro aveva una ragazza stupenda ogni sera le davo dentro linda era linda di nome poi era tutta sporca questa porca e andava a lavarsi sì sì dopo l'amblesso eravamo andati insieme in montagna in uno chalet sembra che un archeologo si fosse ritirato in quel luogo remoto per tradurre e studiare la sua ultima scoperta il necronomicon ex mortis il libro di morti dedicata a voi voi siete degli insommi viventi rilegato in pelle umana e scritto con il sangue con l'antico testo sumero da bologna dicono ma quel falot che è proprio un agino è un sumero per dire somaro andato a darvi il culo sui viali e forza spiegava strani riti funebri incantesimi funerari e riportava formule per la resurrezione dei morti e mi sono affidato al necronomicon per risuscitare sapete quel libro risvegliò qualcosa di malefico nei boschi e poi a proposito sem reimi la casa in quel bosco lì c'è quella bella figa è una donna benefica si si viene tutto spoglieta e i rami entrano dentro soc qualcosa che si portò via linda e poi tornò per me entrò in una mano e la fece mercire così fu costretto ad amputarne ma non era finito purtroppo ritornò ancora questo fa la maledetta ma non muore mai veramente è sempre lì che ci dà dentro allora uomini che vi fate le seghe uomini con la motosega uomini che impazzirete come quello di non aprite quella porta è chiaro poi un giorno vi vedremo quando perderete tutto come me che però questi equilibri straordinari riesce sempre attraverso un self contro invidiabile a mantenere ecco la calma come vi vedremo andare in giro a sguinzagliare cosa il cane poi nei boschi a fare un po i lupi attenzione attenzione prima velocità trevenant attenzione all'orso grizzly è perché quello che salta addosso è chiaro nessuna donna vi salta ados fate veramente schifo pulitevi pulitevi siete tutti in zaccherete è chiaro allora idioti primitivi struratevi le orecchie vedete questo questo è il mio bastone di tuono c'è quello che sta in mezzo alle gambe una cosa veramente e tonante tonitruante fichette è un remington a doppia canna calibro 12 migliore del mio supermercato lo si trova nel reparto caccia e attrezzi sportivi questo adorabile ma terribile aggeggio lo fanno nel michigan costa 100 dollari e 95 scontato è il calcio in noce le canne di acciaio e blu cobalto è un grilletto sensibilissimo proprio così magazzini smart i migliori d'america avete capito donne dal grilletto facile allora comunque l'armante delle tenebre la strega che cosa dice che succhiero l'anima ci voleva una risposta perché la risposta è vieni a prenderla ti succhiero l'anima ma va benissimo basta che non mi succhi l'uccello lei è talmente brutta che non mi tira mago cazzo salutata ma sort il commissario falò presto sulle maggiori catene librarie online e dove il quarto parlo del quarto gli altri tre ci sono già e se non li comprerete se non li comprerete io mi vendicherò ma non fatemi la fine di enrico il rosso non fa una bella figura figuracce di merda in questo film abbiamo enrico 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 di cognome enrico silvestrin abbiamo gli uomini che utilizzano il pino silvestre quando si fanno il bagnetto abbiamo bridget fonda nel ruolo di linda abbiamo quelli di bologna che dicono abbiamo bruce campbell ash williams ash malvagio abbiamo lascia abbiamo 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 finito con queste stronzate per oggi alla prossima ciao ciao ciao